Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con LEGO Batman 3. Lo adoro! Cavolo, ma quando torneranno come erano prima? Ora compatterò questi cristalli con la mia superforza. Allo stesso tempo sfrutterò la supervista per riprodurre fedelmente la struttura cristallina del frambino. Cosa ci vedrà in te, Wonder Woman? Ah, devo sbrigarmi. Oh, allora piaccia a Wonder Woman. Te l'ha detto lei? Sala di controllo. Allora, vediamo un po' che cosa ci aspetta adesso, ragazzi. Dopo Atrocitus, vediamo un po'. Allora, questi li abbiamo fatti, eh. Poi, questi pure li abbiamo fatti, il mondo di Atrocitus l'abbiamo fatto. Ecco qua, la forza dell'amore. Andiamo. Bello il titolo di questa missione, mi piace molto. Che è tutti sti cuoricini, viola? Che è? Da andiamo che c'è? Lanterna erose, mo? Intanto Superman sta a ricostruire il cristallo che ci servirà per ripristinare le azioni sulla terra. Samarov Miei. 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 Oh, Zaffiri. Miei. Rache, ho un pessimo presentimento. Miei. 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 Fermi, intrusi! Osate rubare a casa nostra? No, noi volevamo solo... Silenzio! Cos'è questo? Un uomo metallico senza cuore? Che orrore! Sapphire, all'attacco! Dove stanno? Questo non faceva parte del piano, ma dobbiamo difenderci. Allora ci stanno attaccando davvero. Non sono solo le mie paure. Oh, siamo passati, raga. Da... Che orrore un po'? Aspetta, siamo... Eccolo. Blocchiamo quel portale. Fermeremo i loro attacchi. Buona idea. Uno di loro potrebbe rubarmi la maschera. Oh, pensa che cacchia è nata a pensare. E' Saffire. Allora, vediamo tanto qua... Ma che cosa serve sto coso? Perché me lo devi fare... Ah, ok. Non c'è una macchina. Allora, vediamo un po' che cosa dobbiamo rompere qua per aprire e fermare sto portale con l'attacco qua dei compari. Allora, intanto... Basta, però. Sta a lavorare. Su. Oh, che cacchia. Vedi che stiamo a fare una missione. E' qua. Basta. È rotto. Ok, andiamo. Uno. Andiamo al secondo. Oh, basta un po'. Io sto a lavorare. Sto facendo una missione. Su. Eh? Ci manchi solo che tu. Vai. Vai, Flash. Adesso ci devi pensare te. Che se no, se fresche, non ce le avevamo più dalle scatole. Allora, uno, due... e tre. Bello. Che cos'è? Depuratore. Cacchio, ci stiamo inventando. Che è? Ah, un passaggio. Che mito. Flash, sei un grande. Flash, sei un grande. Fungo piccolo. Fungo grande. Allora, andiamo, va. Che cacchio, pure io. Vai. Fungo grande. Fungo. Ok, tanto questo può volare. Che cacchio, pure io so. Sono un genio, eh. Se può volare. Allora. Qua ci serve Cyborg. Vieni qua, Cyborg. Chiudi sto portale. Su. Vai, vai, vai. Chiuso. E' una cosa è fatta. Perfetto. Portale chiuso, adesso. Col portale chiuso. Vediamo un po' che ci resta da fare. L'importante è stato fatto. Cacchio. Ma questo è ancora che rompere l'anima. C'è la miseria. Siete pesanti, eh. Siete pesanti, se sono da te, se è zaffiro. Ma andiamo. Un po' zaffiro. No, quelle stanno tra poi. Entrano un po' là perché. Ecco le altre in polle. No, pure noi mo. C'è poi. Guarda, quante. Andiamo, regà. Andiamo, regà. Allora, perché ci ha fatto cambiare personaggio? Fatemi capire prima qua che dobbiamo fare, eh. Quindi qua ci ha fatto cambiare personaggio e non ho capito il perché. Qua invece ci posso passare. Andiamo. Ehi, manhunter! Non lasciarci qui! Non temete. Distruggerò la fonte d'energia per disattivare il campo di forza. Oh, numeri! Per manhunter! Allora. Questo lo puoi spaccare. È oro. No, ci vedo male. Ci vedo male io. Vabbè, andiamo a vedere che possiamo fare qua. Ah, è vero. Mi posso trasformare. Mi posso. Aspetta, aspetta. Vai. Eccomi qua. Manhunter devastante. Su. Stacca, 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 stacca! È un portale. Ora cerchiamo di entrare. Forse il raggio di energia di quella statua ci aiuterà. Voglio anch'io una statua. Hai una statua nella sala della giustizia. Ma voglio anche quella. Aspetta che mi serve cyborg. Vieni qua. Vieni un po' di che puoi fa qua. Vai, vai. Ok. E mo' ci serve invece il compare. Ritorna normale. E spacchiamo sta figura. E' un po' serio. Che da tanto che non facciamo la sagoma del Batman. E' vero che invece qua avrò un cuore. Facile, facile. Ok. Che figata. Dobbiamo passare all'altro pezzo, eh. Bella sta missione. Molto particolare. Eccomi qua. Arrivo. Fammi c'è sta corsetta. Vai, 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 vai. Cori, 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 cori. Perfetto. Andiamo, regà. No, dammi, dammi Cyborg che me ci trovo meglio per combattere. Passiamo alla prossima piattaforma. Vediamo un po' qua che rugni ci stanno. A parte ho visto che c'è stato delle cose ancora di puntualità su da rompe. Basta. Se cacchio di soldatessi già firano rotto l'anima, regà. L'hanno proprio scassata. Basta. Vai, vai. Tira, 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 tira. Ok. Desventro. Vediamo un po' qua che ci stiamo a ventà. Che è? Cos'è? Che cacchio è? Che cacchio è? Dai, porti. Bello. Forza. Su, 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 su. Carica, 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 carica. Che è? Le batterie. Serve per volare. Ok, quindi dobbiamo volare. Basta dirlo. Lo dici e facciamo far tutto al compare. Qua che c'è? Qua Robin. Qua posso ancora fare io. No. Vai. No, no, no. Devi darci corretti. Oh, e basta. Vedi tante volte come non mi aziona questi comandi. Oh, e dai. Mannaggia, la miseria. Oh, vanno a fargo. Mannaggia. Che lo vuoi fare? Ok. In l'altro modo non me lo vuoi collegare. Aspetta, ricambiamoci il pozzo. Dai. Dai. Dai, attaccate. Che t'attacchi? Attaccate. Su. Regà, non ce l'ho attaccato. Non so che dico. Mannaggia, ma a veleno quando è così, oh. Su, ce l'hai davanti. Perché non te devi attaccare? Viglio bello. Mannaggia. Oh, veramente è una comica. È la terza volta che gioco qua. Ha, appunto. O meglio, è proprio la terza missione che mi crea problemi a fare sta cosa. Non riesco a dargli corrente. Guardate, mi sa è normale. Lo so che ci vuole cyborg, ma non funziona il tasto B. Non mi fa... Non mi ci fa attaccare, ragazzi. Lei lo continua a premere, qua. Mi sto pure a muovere, eventualmente... Ma... C'è la miseria. Tutte a me, regà. Tutte a me. Dai. Te devi solo attaccare. Non ce vale niente di che. C'è la miseria. Mannaggia. Perché è qua. Qua mi ricarica la batteria. Per scendi. La riproviamo. Ma non ti attacchi, però. Perché non attacca mai la corrente. Deve fa solamente B. Semplice, semplice. Però non ce se vuole attaccare, che non so come cacchio fa. Vabbè. Che ve devo dire, regà. Ci riprovo. Faccio ricarico. Non mi va proprio la B. Non me ci aziona. Ma già mi era successo, vi ricordate, in due missioni precedenti. Vabbè. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi sul mio canale. Mettete un bel mi piace al mio video. E ci vediamo con tanti nuovi video. Sempre qui. Sempre sul mio canale.